Abbiamo presentato un progetto dal nome importante, nel senso che quello che facciamo è rivedere il trend del food porn in chiave fitness, quindi cerchiamo di proporre ai nostri clienti dei prodotti che siano golosi ma soprattutto salutari. La nostra mission è quella di prendere tutti i prodotti che sono golosi, togliere tutta la parte che fa male, veramente negativa e far rimanere tutto il buono, quindi il gusto, il sapore. Noi prendiamo il trend del food porn e l'abbiamo trasformato nel fit porn, prodotti che ci hanno come claim un basso contenuto di zuccheri, di grassi, alto contenuto di proteine ma la cosa principale è che devono essere buoni altrimenti non passerebbe il nostro controllo qualità. Grazie.